E la Phonisos, una spiaggia incontaminata, lo era, fino a che, come vediamo lassù alle mie spalle, la protervia del danaro non ha portato qualcuno a pensare di essere il faraone che tutto può e tutto può disporre. Indigniamoci di fronte alla protervia del danaro, ma indigniamoci anche di fronte a chi, come gli amministratori, molto spesso calano le braghe di fronte a idee di business turistico o a mazzette. Indigniamoci anche verso coloro che vedendo queste cose allargono le braccia e dicono il mondo va così o addirittura dicono peccato che non sia mia quella casa. Indigniamoci verso tutti e tre di questi soggetti perché fanno parte della stessa scala.